Se lei è deceduta, com'è che parla con me? Quindi lei, ovviamente... Ma poi non sono stata fino al 15... Io ho anche la cartella medica qua, cioè c'è scritto anche lei come è morta. Qui c'è scritto che è morta, che lei l'hanno soffocata. Che lei è morta per soffocamento, non lo so se è stato suo marito l'ha soffocato. Questo lui vuole essere mio marito, lo so. Se lei è insopportabile questo non lo so. No, vabbè, sto scherzando, le chiedo scusa, però insomma la situazione è abbastanza... Quindi lei deve andare in un ospedale, signore. Si deve far fare un certificato di esistenza in vita. Cioè il medico la visita, realizza che lei è ancora viva e lei poi ci porta questo certificato a noi. Al comune di Afragola? Al comune di Afragola. Noi con questo certificato scriviamo a Steinheim e diciamo... La signora non è morta, è viva. Capisce? Ma senta, ma... Se mio figlio è nato nel 2006, come sei morti? A punto, a punto noi non ce lo spieghiamo. Eh, mamma mia, ma come stai dicendo io? Ma lei non può essere morta, anche perché lei sta parlando... Eh, ma qui si fa pure questa carta, cioè lei vuole vedere questa carta. Eh, perché per lei, quando vuole, qua sta, signora, e mica in... Perché non si è nato al 22 marzo... Mica è una carta... signora, ma non è una carta nascosta, è una carta che io ho in mano. Allora, non è un signor mio, ma Antonio. Ah? Antonio non è un signor mio. Antonio, secondo le carte, risulta nato da relazione extraconiugale del signor Alessandro Sant'Angelo... Mica, mamma mia, extraconiugale, Antonio. ...con donna sconosciuta. Davvero, mamma mia. Sa Gerardo. Signora, ma lei che vuole da me? Mamma mia. Vabbè, mando mio marito comunque. Eh, lei mandi su... Ma secondo me dovete mandare proprio i carabinieri a questo punto, perché qua la situazione è strana. Signora, ma che cosa c'è sotto? Eh, ma che state dicendo? Eh, ma scusate, ma tutti questi imbrogli, ma non è che avete fatto... Ma mamma mia, ma chi siete, ma di tutto? Ma io sono... La giudicata a Gerardo. No, ma non è che sto giudicando, vedo tutta una cosa strana. Lei prima è morta, poi è viva, suo marito fa un figlio con una estranea, poi è tornata dalla Germania. Uno va avanti, l'altro va indietro. Eh, signora, capirai che con questi tempi di oggi... Pronto? Richiama, richiama. Pronto? No, non voglio parlare con nessuno, perché quando le parete... Un attimo solo, signora, pronto? Non vuole parlare con nessuno, non vuole parlare, Luzio! Abbiamo un cellulare di questa signora? Sì. Signora, scusi, lei è morto e viva. Ma un'altra volta, ma... Non mi va a leggere, chi gliel'ha dato? Che cosa? Il mio numero di telefonino, chi gliel'ha dato? Noi sappiamo tutto. Ah? Noi sappiamo tutto, siamo del comune. Ma chi è lei? Io? Ma... Eh, chiamarsi... Non mi dite parlare, ma chi sei? Io sono Fabio Brescia di Radio Marte. Spatura! 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 Amelia! Ma chi è? Era uno scherzo di tuo cugino Nunzio, Amelia! Ma sì, ma quello è proprio uno stroppo! Ah! È così! È così! Pane al pane, vino al vino! Pronto? Eh, salve signora, vos chiamo dall'ufficio amministrativo dell'hotel Baia delle Salle.